Salve a tutti ragazzi, sono Inferno86 e sono qui oggi in un mio nuovo video per portarvi un nuovo gioco di survival che ho trovato sul Play Store e sembra molto interessante. Si chiama Winter Zombie After The Last Zombie War e devo dire che sembra abbastanza carino, i voti sul Play Store sono veramente bassi, 3,3, 3,5, una roba del genere. Andremo a vedere ragazzi se il gioco è sottovalutato perché fa cagare oppure no, se invece il gioco è bellino e vi interessa una serie ragazzi ve lo posso portare. Diverso da Last Day, non ci sono armi da fuoco quindi avremo solamente penso balestre per sparare o archi e asce, spade, scudi e cazzi e mazzi. E' un incrocio fra The Witcher e giochi con norreni, vichinghi perché comunque è ambientato in un clima molto freddo, quindi c'è la neve, ci sono le montagne e simile a The Witcher perché ho visto che può portare delle spade, due spade sulla schiena come The Witcher, quindi molto simile diciamo, non proprio uguale ma molto simile a The Witcher. E niente ragazzi, partiamo, vediamo un po', ho visto che c'è la possibilità di avere un compagno di feste, un piccolo aiutante di Babbo Natale, invece che Last Day c'era il cane, qui abbiamo il drago, quindi dovremo far schiudere l'uovo e cazzi e mazzi. Io ho fatto una piccola partita prima, ho cercato di registrare con due recorder ma l'hanno messo a pagamento sti pezzi di infami, sti marrani hanno messo due recorder a pagamento, sti marrani, che una volta era gratuito, era una bella applicazione, ora ne sto usando un'altra e spero che si sia tutto bene. Quindi ragazzi entriamo dentro il nostro accampamento, il nostro camp e vi faccio vedere che comunque ho, io sono questo, ho preso il pacchetto perché danno dei primi giornalieri, ogni giorno viene un regalo diverso, quindi nel pacchetto che ho preso oggi c'era l'armatura cornuta, il tipo può salutare, no, non può salutare, non può salutare, non può pisciare, però come grafica è bellina ragazzi, spero che non laghi tantissimo il gioco, Io ho abbassato la grafica ma ho visto che laggava lo stesso nel video che ho fatto precedentemente, quindi ragazzi vi ricordo se vi interessa una grafica mi raccomando scrivete nei commenti, si inferno faccio una serie e portaci una serie, io ve la porto ragazzi. Niente, volevo fare una cosa che prima ho visto, allora questo qua è il nostro accampamento ragazzi, io ho fatto fuori 4 zombie, prima volevo aspettare farli con voi, qua ci sono i cervi, come sempre i cervi, gli zombie lasciano le corde come sempre, ah qua abbiamo un altro zombie ragazzi, Gli attacchi sono un po' lenti, dobbiamo aspettare che si ricarica l'attacco successivo per poi farne un altro, abbiamo una sorta di timer, un timer loop, infatti la ghicchia un pochettino, ci sono qualche scatticchio, qualche scatticchio c'è, ecco qua un altro zombie, attacchiamo lo zombie, ecco lo zombie, lo zombie è morto, lo zombie ragazzi ha la corda come sempre, Qua ho un paio di cose che ho recuperato prima, sia nei pacchetti che comunque in giro qua nella mappa, come sempre abbiamo il nostro accampamento ragazzi da ricostruire, però ci danno tutto, ci danno l'orticello, ci danno, penso che questa sia la fucina, la furnace, la furnace, poi qua abbiamo la nostra base, piano piano rifaremo, magari se vi interessa una serie vi porterò i vari step, Nei prossimi video, qui abbiamo il nostro focolare, io prima ho fatto queste, le bacche, le bacche cotte, perché erano congelate, come dice, devo uccidere 5 zombie con la spada e un lupo, io qua zombie con la spada non ne ho visti, Qua ragazzi abbiamo la pustazione del drago, io all'inizio ho messo un cristallo per aprire tutta questa cosa qua, ho visto che qua c'è un altro cristallo, questo qua, dove ci sono tutti questi cristallini qua, Vediamo se inserendoli nell'apposito spazio, quindi questi vanno qui, questo va qui, questo va di là, questo va di qua, questo va di su, questo va di su, questo va di là, e questo va di qua. Boh, comunque, abbiamo anche l'uovo, ok, ok, l'uovo che ci hanno dato nella cassa, identifichiamo ragazzi, vediamo che cavolo succede, e ci danno l'uovo di grado, Voi avete, sì ok, un uovo di drago, il mio inglese sapete che fa cagare, identifichiamo, identifichiamo, ah non possiamo perché, mi sa che dobbiamo rimettere i cristalli, Vabbè, io rimetterò gli stessi cristalli, questo e questo, che mi sono avanzati, e basta, perché poi non so se qua c'erano altri tipi di cristalli, c'erano quello lì, Quindi, mi sa che dovremmo andarle a trovare in giro, per, ehm, per aprire l'uovo, quindi, vedete qua i cristalli, adesso c'è l'albero, Aspettate che abbatto l'albero, che lo levo dalle palle, così si vede meglio sto, sto coso. Oh, via l'albero, vedete, il cristallo che ho messo prima si è posizionato, tipo in cerchio, bisogna posizionare in cerchio di cristalli, Poi penso che si aprirà l'uovo, e questa qua, ragazzi, è la casuccia del drago, che anche questa qua dobbiamo, ehm, trovare tutti, tutte le parti, Qua abbiamo già, ok, abbiamo anche i cristalli del fuoco, ne abbiamo messi i quattro, ce ne manca uno, che cozzo è questo? Un verme, utilizziamo il verme, cazzo è successo? Utilizzando il verme, un cazzo, abbiamo utilizzato il verme, vabbè, qua abbiamo tutti gli spazi, ragazzi, come il last day, abbiamo, abbiamo anche la possibilità di portarci uno scudo in battaglia, Quindi, oltre all'arma principale, possiamo portarci o due armi o lo scudo, quindi spada e scudo, o due spade, o una spada o un'ascia, Eh, personaggio anche, non è bruttissimo, eh, è bellino, è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, sembra bello. Niente, facciamoci un giro qua nella mappa, vediamo che cazzo c'è, devo uccidere anche un lupo, vediamo se troviamo i lupi, qua c'è un altro, Un altro zombino, ammazziamo lo zombino, qua c'è un altro zombino, e di qua mi sembra che c'era un lupo che avevo visto prima, no? Mi segnava un lupo, forse era più avanti, uccidiamo quest'altro zombie, ok, così intanto saliamo di livello, qua c'è un altro zombie, Mi sembrava di aver visto un lupo prima, che me lo segnava nel video che stavo facendo precedentemente, abbiamo rotto anche la lancia, Eccolo qua, eccolo qua il lupetto, 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 ora ti ammazzo lupetto, non è morto, e ammazzalo, oh non lo ammazzava, Ok, comunque il lupo l'abbiamo ucciso, nel lupo sicuramente c'è la carne e la pelle, quindi ce le prendiamo, Così ce le mettiamo nella cascia, nella cascia, ragazzi, andiamo a metterlo nella nostra cascia, Adesso io non so se ci sono citti, 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 se ci sono trucchi per questo gioco, Poi magari andrò a vederlo, anche per sistemare un po', perché qua dobbiamo risistemare tutto da capo, Il letto, le corde, le assi, questo che cazzo è sto coso, i chiodi di bronzo, quindi dobbiamo sistemare, ragazzi, un po' tutto, tutta la casa, Quindi abbiamo già, diciamo, le prime strutture che dovevamo creare il last day, qua ce le danno già, però dobbiamo sistemarle, Quindi ci vorrà un po', vediamo un po' qua cose c'è, qua dove c'è un numero 5, qua ci sono le cose a pagamento, Qua se guardiamo per 5 volte una pubblicità, ci danno quei premi, ci danno quelle 3 armi, non è male, Armi è una trappola, che cazzo è, poi le cose che costano un fottio, le cose che costano un fottio, Ah, qua i cristalli, ragazzi, a pagamento, naturalmente, l'equipaggiamento, totalmente a pagamento, Gold coin, totalmente a pagamento, i build, che alla fine sono quelli per costruire, totalmente a pagamento, Tutto a pagamento, come sempre, però magari troviamo qualche mod, ragazzi, e ci fottiamo tutto e prendiamo pure l'oro, E qua l'esperienza a pagamento, questo qua che vi dicevo prima, ragazzi, ogni giorno vi danno, per 7 giorni vi danno i premi, Quindi io ho già preso i primi che erano da bere, i secondi che sono la tuta che ho addosso, Il terzo qua ci daranno, cioè ci danno a pezzi, ci danno, no? Il primo giorno ci danno la tuta, i guanti, l'elmo, il secondo giorno ci danno i pantaloni, le scarpe e la spada, Un po' una stronzata, perché intanto noi spacchiamo la tuta di sopra e poi ci danno quelli di sotto, Così poi rimaniamo, adesso siamo in mutande e poi rimaniamo nudi con fuori le tettine di fuori. E niente, ragazzi, questo mi sembra un bel giochino in confronto a Last Day, che ormai è Last Day, Last Day ormai è Last Day, io lascerò giù un po' di cose, qualche tanto è inutile che me le porto dietro, Tronchi, mica tronchi, qua comunque abbiamo già alcune cose per costruire, tranne i chiodi, però questa qua cos'è? Merda di dragon, sì, cacca di feces, penso che sia le feci di drago, cacca di drago, bello, mi piace, Quindi lasciamo giù un po' di cose, ragazzi, che tanto, cioè non ci servono, è inutile portare dietro duemila cose, Questo cos'è? Boh, mangiamo noi, questo lasciamo giù, questa non è cotta, la lasciamo giù, Questa cos'è? Vino di frutta, questo cos'è? Boh, e questa è birra, birra penso che qua sia commestibile e non faccia pisciare, Come in last day, malto di vino, bello, mai sentito, e rum, cioè siamo proprio alcolizzati in sto gioco, Questo cos'è? Acqua, questa è acqua, no, magic spring, una pozione magica che ci dà più 50 di energia. Niente, ragazzi, io per il momento, non lo so, finisco qui il video, spero che il video vi sia piaciuto, anche se corto, Se vi interessa, vi ricordo, vi porto, ragazzi, una serie, se vi potrebbe interessare, magari, schiudiamo l'uovo di drago, Andiamo a farci, nella mappa, che ora vi faccio vedere qua fuori, vabbè, quella che vi ho fatto vedere inizialmente, Comunque nella mappa, magari ce ne andiamo a fare, non so, la prima foresta di pini, o la cava di roccia, Qua, qua abbiamo anche un evento, cella abbandonata, ok, penso che sia cella abbandonata, Qua abbiamo un bel po' di cose, c'è pure il vulcano, ragazzi, c'è il vulcano che funziona veramente, Quindi grafica, bella, l'unica parte senza neve è quella attorno al vulcano, bello, ragazzi, Qua abbiamo uno scheletro di dinosauro, di drago, di drago, non dinosauro, ma drago, La mappa non è male, eh, ragazzi, siamo nei ghiacci, qua abbiamo un castello, Qua c'è un altro vulcano, spento, che fa solo fumo, non è male la mappa, ma sembra un bel giochino, Quindi ragazzi, se vi interessa, mi raccomando, scrivete nei commenti se vi può interessare una serie, Scrivete infernosi, portici una serie, ci può interessare, se non vi interessa, niente, Fanculo, ragazzi, no, niente, dai, io chiudo quel video, ragazzi, e niente, Vi ricordo, come sempre, di spolliciare e condividere gli ultimi video sui social con amici conoscenti, Amici degli amici che più ne ha più ne metta, come sempre saluto tutti i miei infernali, Quei pochi che sono rimasti, ma li saluto comunque, tutti i marrani che mi mettono i dislike, Che mi scrivono i commenti cattivi, li saluto comunque, e niente ragazzi, da Inferno86 è tutto, Alla prossima!